Io ho fatto niente Questo è scorretto perchè ti posso denunciare Poi glielo fa vedere a Claudio Quanto che c***o ho stritto E' Claudio E' Claudio Sta studiando Si No ma quando in scienze non esce Ma Enzo Ma tu non le film viste da fare Ciao Claudio, buonasera Studia perchè gli esami sono importanti Ehi, manca la salute Quindi studia e fai pure Tanto ti nella farmacia di sotto Tu vai nella farmacia Prendi quello che devi comprare E poi chiamo No non mi chiamare perchè non ho bisogno Di queste accorgenze Ma bene torniamo Come si dice accorgenze, accortazioni Accorgimenti Ma onestamente in italiano Mi dà pure che vorresti milionari Se ho 4 tentativi Io ho indovinato al petto Ma non ho neanche chiesto l'aiuto del pubblico E' che pubblico, inquadriamo Andiamo Attenzione Vedi che... C'è inquadrata per primo Vedi che è di cinere No no si vede 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 che avevano Si vede che avevano Salvatore che ha fatto conquiste stasera Che era grandissimo Io mi tocco E' tornato al mio allegro Ma invad Ti tocca Si vuole che glielo prendi Qual è la parola d'ordine? La parola magica di Pierpaolo? Formattate tutto Formattate tutto Ciao No ma andiamo Lì vado a fare il piede Vado a fare il buco Vado a fare il piede Vado a fare il piede